Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo all'emfplat.dll il file mancante che non c'è nel nostro sistema operativo, quindi in questo caso vi spiegherò due metodi per risolvere questo problema quindi andiamo prima a scaricare il nostro file dll su dllfiles.com che ti ho lasciato in descrizione quindi in questo caso ecco qua il nostro file, andiamo così a scrivere il file mancante che vi serve mfplat facciamo invio ed ecco qua il nostro file, ci clicchiamo su ora, scendiamo fino a giù fino a trovare così l'edizione per il nostro sistema operativo sia 32 bit che 64 bit, io visto che ho il sistema operativo a 64 bit vado a scaricare quello da 64 bit e faccio download il file dll me l'ha scaricato, eccolo qua, entro in winrar, questo è il file dll, lo trascino qua sopra una volta fatto prendo così questo file dll e lo vado a mettere nella cartella di system32 quindi vado su questo pc, disco locale c, scendo fino a giù fino a trovare windows, scendo fino a giù fino a trovare la cartella del system32 prendo file dll e lo inserisco in file dll, sostituisci i file nella destinazione ed eccolo qua e ho messo il file, se non dovesse funzionare con questo metodo è possibile mettere questo file direttamente nella cartella questo pc, disco locale c, sempre la stessa cartella windows se non funziona nella cartella system32 è possibile metterlo in quello system del 64, questo qua ora se non dovesse funzionare possiamo sempre scaricare una funzionalità aggiuntiva per il nostro sistema quindi andiamo così ad aggiungere il media feature pack, questo qua quindi per windows 10 va scaricato, scegli la tua edizione, metto 2019, faccio conferma 64 bit o 32 bit, io metto 64 bit scarico così il pacchetto, ovviamente non è per windows 11 questo pacchetto, solamente per windows 10 versione n scarico e installo il pacchetto, ovviamente non lo scarico, non lo installo perché non serve a niente perché sul mio sistema mi dirà sicuramente non è possibile installarlo perché non supporta l'edizione invece quelli che hanno la versione windows 11 andiamo così a scrivere funzionalità facoltative ci clicchiamo sopra ti porterà sul sistema funzionalità facoltative, visualizza le funzionalità, tu vai a scrivere così il media feature pack se ti esce devi installare così quel pacchetto e poi riavviare il sistema io ovviamente non ho nessun problema riguardo a questo errore, quindi risolverai sicuramente al 100% il tuo errore del tuo file mancante, qui puoi installare tutti i file, tutti gli strumenti che servono al sistema quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, i link stanno in descrizione grazie a tutti per questa visione, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao ciao